no matt a 0 le porte sono da lì e da lì dai o 3 2 1 via 1 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 aspetta aspetta che c'è una persona in campo no 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 parata parata palo palo 3 a 0 no no è andata qua è andata qua ok ecco io guarda questo non è il buco scuro golli non vale non vale non vale 4 a 0 sono passati no questo è l'ultimo go ma non gole possiamo un altro partito l'ultimo punto l'ultimo punto dai parla a me parla a sua parla a sua no non la parla non va il gol ok rigori dammi parla a mia parla a mia se non fanno ok vai no è tirato è il gioco eh tu ti stai tirando no gol oh ragazzi ti sono Oh, 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 oh